sia per privati che per piccole imprese e poi si occupa anche di tutto quello che riguarda l'arredamento sia per privati che per locali pubblici ok, quindi sicuramente hai accennato l'arredamento quindi ritengo poi che una parte avevamo già accennato committenza privata questa è sempre una committenza privata rispetto a quella precedente è una committenza completamente diversa quelli del comune di Viente della ristrutturazione sulle mura del castello sono persone, è una coppia in pensione che abita a Siena e che quindi usa la casa principalmente come casa vacanze diciamo così o viene a Viente perché? grazie a tutti grazie a tutti